Il botte risposta a distanza tra il direttore dell'attacco Pacello e il procuratore Capovaccaro sulla mafiosità del capoluogo Dauno e del suo comune sciolto per infiltrazioni ha scatenato un ampio dibattito pubblico tra chi si è schierato da un lato a favore dell'autonomia di stampa e delle ricostruzioni pure terodosse di Pacello, sul caso Foggia, sulle dinamiche che hanno portato allo scioglimento e sulla natura della criminalità organizzata foggiana e dall'altra parte i professionisti dell'antimafia sociale tra cui Donatella Curtotti, direttrice del dipartimento di giurisprudenza dell'Ateneo Dauno che insieme a pochi altri ha gridato pubblicamente allo scandalo rispetto alle affermazioni del direttore dell'attacco evidentemente riprendendo la strumentalizzazione veicolata sulla questione da certa stampa locale il caso Sbelli nasce da un seminario tenuto da Pacello presso il Demet dell'Unifg in cui il direttore ha sostenuto Foggia non è una città mafiosa la mafiosità attribuita a questo territorio è un grande storytelling lo scioglimento del Consiglio Comunale è frutto di una decisione tutta politica presa da Roma sulla questione ovviamente intervenuta come detto anche la prof Curtotti che non ha perso occasione per tentare di mettere in difficoltà il rettore Lomuzio e la rivale prof Cangelli che aveva ospitato l'intervento del direttore all'interno del suo corso universitario la libertà di insegnamento ha scritto un paio di giorni fa la prof Sanseverese nel primo di due post social sull'argomento è un diritto individuale ma è anche un dovere pubblico all'università chi insegna sa che i contenuti di ciò che trasmette in aula devono sempre essere il frutto di una ricerca terza e neutrale e soprattutto sa che il limite invalicabile di ogni suo diritto e libertà è l'incontrattabile tutela dello studente e poi ancora in un altro post pubblicato nelle scorse ore non può essere considerato opposizione alla mafia l'iniziativa didattica assunta nel nostro Ateneo invitando a dialogare con degli studenti un giornalista le cui posizioni negazioniste erano già note un episodio molto pericoloso dice Curtotti un fatto successo di fronte a un centinaio di nostri ragazzi che considero gravissimo per la cronaca al contestato seminario online hanno partecipato una decina di studenti e poi chi in ambiente universitario conosce da vicino il lavoro della prof Cangelli afferma l'attacco è sbagliato sostenere che in quella lezione si siano sviluppate tesi negazioniste Pacello ha sostenuto che la mafia foggiana a carattere primordiale Curtotti continua la fonte parla degli studenti un FG in maniera offensiva come fossero bimbi delle elementari sono invece universitari ai quali si deve offrire pluralità di prospettive a carattere